Basta un minuto di camminata per le strade delle città campane per vedere l'altra faccia dell'emergenza rifiuti. Infatti nelle città capoluogo della regione ogni minuto si trovano in strada in media 3,4 rifiuti legati alla crisi pandemica tra salviettine, mascherine e guanti. La situazione è stata fotografata da Lega Ambiente Campania attraverso un'azione di Citizen Science che ha visto coinvolti i cittadini volontari nella prima parte di indagine sui rifiuti direttamente o indirettamente le alla riduzione della diffusione del covid dispersi e abbandonati nelle strade cittadine. Sono stati verificati 15 chilometri di percorso, un chilometro nel comune di Avellino, uno per Benevento e uno per Caserta, dieci nella città di Napoli e due nella città di Salerno da maggio, giugno e settembre. Ad Avellino l'indagine è stata effettuata su una strada secondaria. Sono stati individuati complessivamente 49 rifiuti legati alla crisi pandemica, in media 3,7 rifiuti ogni minuto di camminata. Maggiormente presenti sono le salviette per l'igiene delle mani, con 27 rifiuti individuati pari al 55% del totale. Seguono le mascherine chirurgiche con un totale di 12 pari al 24% del totale e i guanti con un totale di 9 pari al 18% del totale. Infine un imballaggio delle mascherine. La città di Avellino è seconda a Napoli, poseguono Salerno, Benevento e Caserta. Sembra che ci siamo dimenticati di tutto ciò che è successo in quest'ultimo anno. Le nostre abitudini, commenta Maria Teresa Imparato, presidente dell'Egambiente Campane, possono avere un impatto enorme e questo virus lo sta dimostrando. Certo che oggi, dato il tipo di rifiuto potenzialmente infetto, questo atteggiamento è ancora più grave. Un ruolo fondamentale, però spette anche gli amministratori che devono intensificare e investire su campagne di sensibilizzazione sulla corretta modalità di conferimento dei materiali sanitari.